ci piaceva l'idea di fare un film che avesse comunque un punto di vista femminile perché non se ne fanno moltissimi spesso li importiamo perché importarli proviamo a farli sì i famosi film da femmina quando io con mio marito dobbiamo scegliere delle cose una volta a settimana io ho un bonus film da femmina lui guarda la tele in un'altra stanza a quel punto e da maschio le torrette dove si spara con quegli audio fastidiosi capito che una arrivano a certa ora vuol dormire oppure guardare un film che ti mette in pace con la giornata e chiudere io sono fan di tom hanks per me devi uscire dal cinema che sei contento e riconciliato con la vita e questo era proprio lo scopo del film secondo me può essere un film per tutti nel senso che la cosa bella di questo film è che si vede come i progetti possono cambiare in corso d'opera della vita delle volte uno si dice dei no o dei sì assolutamente cioè voglio assolutamente un figlio non voglio ma la vita ti mette davanti a delle scelte che sono più importanti dei tuoi progetti delle volte può essere così ma infatti sei strano Viene da vomitare scusate Viene da nausa forte quando fa così Fai 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 Fai